Passare da essere personaggi stellari a Stellati è un attimo Basta trovarsi nel posto giusto Il mio ristorante va in mano a due celebrità Ciak, si cucina Create Alessandro Borghese ospita le nuove divertentissime sfide ai fornelli fra VIP Questo è il mio ambiente concettuale E allora? Si illumini il ristorante, entrino i clienti, prenda posto la giuria Alessandro Borghese, Celebrity Chef Da lunedì 20 marzo alle 19.10 In prima visione assoluta su TV8 Grazie a tutti